ciao amici tempo fa ho fatto un video sui pancakes e in tanti mi avete scritto per sapere come si fanno oggi vediamo come fare insieme questa classica colazione che è americana ma in realtà ormai tutti conosciamo i pancakes credo per chi non li conosce sono delle frittelle dolci ma piatte tipo crepes ma più spesse tipo piadine ma più piccole e più soffici si preparano in pochi minuti in padella infatti pan vuol dire padella in inglese e si servono dolci o salati a seconda dei gusti vanno benissimo come colazione nutriente per iniziare una giornata bella attiva quando siamo pieni di impegni o sappiamo che il pranzo sarà tardi o non ci sarà proprio ma non solo anche quando hai voglia di qualcosa di buono e goloso e sano in questo caso ma allora sono delle bombe caloriche no dipende dalla ricetta e per quella di oggi ho un segreto come sempre per renderli light proteici e amici della linea e anche come piace a me velocissimi e facilissimi da preparare e con risultati perfetti al 100 per cento ogni volta adesso se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video il mio segreto è questo l'impasto proteico per pancakes della food spring che è anche lo sponsor del video di oggi rispetto ai comuni preparati per pancakes da supermercato questo ha due vantaggi uno è proteico ha meno carboidrati e più proteine pensate che ha lo 0 per cento di zuccheri aggiunti e il 62 per cento di proteine 2 è facilissimo da preparare ma veramente quindi non devo invadere la cucina di farina lievito zucchero eccetera eccetera no è questo il bello ora vi faccio vedere ma prima iscrivetevi attivate le notifiche e abbonatevi per sostenere il canale con un piccolo contributo mensile in descrizione trovate tutte le info e se siete su smartphone o tablet basta cliccare la freccina di fianco al titolo ora vediamo la ricetta per fare 4 pancakes bastano 80 grammi di preparato food spring per pancakes sono circa 8 cucchiai e li mettiamo nello shaker aggiungiamo 150 ml di acqua fredda shakeriamo e l'impasto è pronto riscaldiamo la padella per pancakes qui abbiamo un testo e adesso basta versare il composto direttamente dallo shaker e il gioco è fatto pancakes perfetti meravigliosi in un batter d'occhio oggi ho voglia di dolce quindi ci spalmo un po di crema proteica al cioccolato della food spring senza zucchero naturalmente aggiungo un po di lamponi bio e il gioco è fatto buonissimi l'impasto contiene farina di farro il cereale italiano più antico super nutriente e super digeribile e tutti gli ingredienti necessari per dare ai nostri pancakes la consistenza la cremosità perfetta ogni volta per gli amici celiaci c'è questa polvere proteica per impasti della food spring è senza glutine e basta mescolarla con un preparato per pancakes gluten free ho spiegato come usarla in questo video mi hai fatto venire fame di pancakes ora li ordino subito come sempre con il codice sconto vignali piccolo yt grande avete uno sconto del 15 per cento su tutti i vostri acquisti grazie food spring in descrizione trovate i link ai prodotti di oggi con tutte le istruzioni per ordinare e risparmiare ora condividete questo video e nei commenti scrivetemi le vostre ricette preferite e le più sane con i pancakes noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao buonissimi guarda che io me li mangio dopo no perché ho ripetuto canale l'impasto